Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle The North Face Summit Crixton Pro, una scarpa pensata per l'avvicinamento per il trekking, ma che... Non vi spoilerò nulla dai, vediamo progetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito parlando del peso, questa Crixton Pro nel mio 47 pesa 360 grammi, che è un peso comunque abbastanza esiguo per il tipo di calzatura. E non a caso la leggerezza è uno dei punti forti su cui ho puntato The North Face per questa Crixton Pro. Iniziamo come al solito a guardare la suola. La suola è una Vibram modello Megagrip Light Base, quindi decisamente leggera e anche da qua capiamo perché il peso è così contenuto. Ed è una suola che mi ha convinto perché comunque la mescola Megagrip, come sappiamo, lavora decisamente bene. Però avendo questi tasselli molto grossi e soprattutto non tanto spessi, se non hanno 3 mm a dir tanto, non ha una gran tenuta sul fango. Quando parliamo di fango con questa calzatura, da assolutamente no, rischiamo tanto di scivolarci, quindi sicuramente non è pensata e non vi consiglio di utilizzarla sul fango. Un aspetto che ci tengo a sottolineare è che secondo me manca sulla parte anteriore una cosiddetta climbing zone. Pensando, essendo una scarpa pensata per l'approach, quindi magari dove possiamo anche trovare un primo o secondo grado da arrampicata, se ci fosse stata una parte anteriore con una climbing zone, quindi un pezzo tutt'uno e non tassellatura, sarebbe andata decisamente meglio per avere grip e spinta nel momento in cui andiamo un pochino a scalare. Per il resto la suola è classica Vibram, quindi è abbastanza durevole, non si è distrutta, quindi da questo punto di vista il marchio Vibram lavora sempre decisamente bene. Passiamo ora però a parlare dell'intersuola. Un'intersuola abbastanza basso, in eva, e per quanto riguarda l'intersuola, al di là dell'ammortizzazione, che vabbè non è una scarpa alla trail, quindi l'ammortizzazione è buona, ma non c'è gran bisogno di una grande ammortizzazione, bisogna parlare della rigidità di questa scarpa. Essendo una scarpa pensata per l'approach, io mi immaginavo di trovare una scarpa semirigida, rigida, per nulla. Non è per nulla neanche semirigida e questo lo si sente tanto nel momento in cui appunto andiamo a scalare, a fare qualche primo o secondo grado da arrampicata. E questo davvero è un punto negativo, perché comunque avere una scarpa così flessibile per fare dell'approach non va bene. Oltretutto, questa scarpa non isola molto dalle rocce, quindi nel momento in cui noi non arrampichiamo, ma andiamo a camminare su delle rocce anche un pochino puntite, le sentiamo davvero tanto. Avrei preferito avere una suola almeno semirigida, che mi isolasse di più dalle rocce su cui andavo a camminare, e che mi aiutava molto di più nel momento in cui dovevo spingere, soprattutto di punta. Però questo non è l'unico aspetto che non mi ha convinto a punto di vista di una scarpa approcce, perché parliamo anche del puntalino. Questo puntalino è veramente super morbido, cioè non ha una parte rigida. Io ci ho preso dentro in una roccia facendo la cresta cermenati sulla grignetta, e prendendoci dentro in questa roccia mi è diventata prima l'unghia nera e poi mi è saltata via. Quindi la protezione contro le rocce per questa scarpa è davvero scarsa. In compenso però The North Face ha utilizzato un materiale che si chiama Spectra, per quanto riguarda tutta la tomaia, che devo dire essere veramente molto traspirante, perché ci si vede letteralmente attraverso, super resistente, e questo mi è piaciuto invece. Questo materiale di Spectra mi ha veramente convinto, soprattutto perché anche andandoci a strusciare contro rocce, prendendo dentro in spunto ogni è, non ha avuto nessuna rottura, nessuna abrasione, quindi da questo punto di vista è materiale Spectra promosso. Ma continuiamo a parlare della parte superiore arrivando al tallone. Un tallone che sinceramente avrei preferito un pochino più rigido, soprattutto visto che è una scarpa da approach. Non è così tanto rigido, anche l'imbottitura nella parte superiore del tallone non è così tanto elevata. Diciamo che assomiglia più, mi viene in mente, alla flyvective, per intenderci come imbottitura, quindi l'imbottitura è davvero molto scarsa. Questo anche perché, come dicevamo, a The North Face è andata a contenere il peso per farla molto leggera. E questo tutto a discapito della stabilità, nel senso è una di quelle scarpe che, quando camminiamo su roccia, parlo di camminare, tende a farci un po' svirgolare. È una scarpa con la quale è decisamente facile prendersi una storta. Però troviamo sul tallone questo cordino, molto utile nel caso per andare a mettere la scarpa ad appenderla con un mescottone fuori dallo zaino. Visto che prima vi avevo parlato dell'imbottitura del collare, vi parlo anche dell'imbottitura della linguetta. Allora, nel senso della linguetta sta ferma, quindi svolge molto bene il suo lavoro e ci isola anche dei lacci, anche se adesso dei lacci ne parliamo perché sono veramente grossi, è un sistema un po' particolare. Però diciamo che sì, dai, non avendo un grande problema di lacci, di pressione, anche se è una linguetta molto leggera, svolge comunque bene il suo lavoro di tenerci fermo il piede. Come sicuramente avrete notato, troviamo un sistema BOA per la chiusura. L'allacciatura è composta da tre parti, il BOA la va a chiudere e qui torniamo sul solito problema che troviamo col BOA. Praticamente quando c'è un singolo BOA, l'allacciatura non è così precisa perché la parte inferiore, quindi la parte di allacciatura più lontana dal BOA, è davvero difficile da stringere e anche qua non riesco a stringerla come vorrei sulla parte dell'avampiede, facendo sì che la scarpa resti sempre un pochino larga. Quindi secondo me due BOA sarebbe stato veramente perfetto. Inoltre The North Face è andata ad aggiungere un pezzettino di plastica a protezione del BOA nella parte inferiore, probabilmente per evitare che si rompa quando va a sbattere contro la roccia, però questo dà veramente tanto fastidio al momento in cui andiamo a chiudere perché non riusciamo a far ruotare a 360 gradi il BOA con le nostre mani, ma saremo sempre costretti a prenderlo solamente nella parte superiore. Per quanto riguarda invece lo spazio del piede, allora questa scarpa non è per niente spaziosa. Io ho un piede abbastanza normale, né troppo largo né troppo stretto e con questa scarpa il piede mi è sempre rimasto molto pressato all'interno dell'allacciatura, quindi diciamo che è una scarpa comunque un po' da provare perché se avete un piede giusto un pochino largo forse conviene prendere mezzo numero in più. Infine per quanto riguarda la soletta, questa è estraibile, classica soletta di North Face, non ho avuto problemi, ci sono trovato bene anche quando si è bagnata la scarpa, si è asciugata in fretta, quindi soletta tutto tranquillo, provossa. Ma arriviamo dunque alle conclusioni per questa The North Face Summit Craigstone Pro. Ve la consiglio per l'attività a cui è stata pensata, ovvero l'approach? Sinceramente no. No perché la protezione rispetto alle rocce è veramente scarsa, nel momento in cui andiamo a spingere stiamo facendo qualche grado d'arrampicata, non essendo semirigida facciamo davvero fatica e la scarpa non ci aiuta, quindi sinceramente per quanto riguarda l'approach io mi sento abbastanza di sconsigliarvela. Per quanto riguarda il trekking potrebbe avere il suo perché, un trekking abbastanza semplice, niente roccia potrebbe avere il suo perché, comunque è una scarpa decisamente leggera, ci aiuta molto nella camminata, quindi per il trekking ci può stare. Unica cosa è il prezzo, facendo parte della serie Summit The North Face il prezzo è veramente alto, partiamo dai 170 euro di The North Face sul sito ufficiale, la troviamo in giro a 150. Sicuramente è una grossa spesa, però devo dire che i materiali e la costruzione per la serie Summit The North Face si vedono che è ben studiata, si vede che è ben composta. Se vi ricordate altre recensioni di The North Face, tendevano sempre i prodotti a rompersi nell'arco di due o tre uscite, con questa scarpa ho fatto più di dieci uscite e non si è ancora rotto nulla. Diciamo quindi che questa serie Summit, soprattutto in questo modello, si nota che ha una marcia in più rispetto alle altre scarpe, i modelli The North Face che ho provato fino ad adesso. Perciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurante e resistivo anche per questa recensione, vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!